La buona comunicazione nella coppia. Molti pensano che saper comunicare sia soprattutto l'abilità di trasmettere le proprie idee al prossimo, di persuadere e questo ci sta. Ma saper comunicare è soprattutto l'abilità di comunicare al meglio con se stessi. Tutto ciò che noi pensiamo in qualche modo traspare nella coppia ancora di più. Scherzando io dico sempre se mangi aglio non esce mughetto. Per avere un buon rapporto di coppia è indispensabile quotidianamente parlarsi, raccontarsi, confrontarsi e anche discutere. Anche le discussioni rientrano nel perimetro della comunicazione e poi si comunica non solo con le parole ma anche e soprattutto con l'atteggiamento, l'ascolto, le attenzioni, il sostegno. Ecco quindi alcuni suggerimenti. Uno, ascoltare. Oh che verbo importante! Ascoltare passa attraverso i nostri cinque sensi e probabilmente anche attraverso il sesto. Quando ascolti lo fai per rispondere o per capire il tuo partner? Ascolta non solo con le orecchie ma anche col cervello e soprattutto col cuore. Due, entusiasmo, positività. L'entusiasmo è l'energia rinnovabile più potente e nella coppia è una parola d'ordine. Orientarsi alle soluzioni piuttosto che ai problemi. Aiutare il partner nelle scelte è fondamentale e poi, cosa ancora più importante, nel dialogo. Parla con chiarezza ma senza critica. La comunicazione non è una gara. Tre, fiducia. Esprimere fiducia. La fiducia è la colonna sonora di una relazione. È il clima che ci permette di esprimere al meglio, oppure no, noi stessi. Quando sappiamo che c'è fiducia diamo il nostro massimo. Senza fiducia non esiste relazione. Quattro, assertività. Non accuse. L'assertività è la capacità di esprimere appieno i nostri pensieri senza aggredire, mai accusare, mai biasimare o peggio ancora scadere nel sarcasmo. Evitare quelle forme assolute tipo tu sei, tu fai e magari sostituire con in questa situazione forse sarebbe stato meglio che. Cinque, condividere sogni ed obiettivi, divertirsi insieme. È quasi un obbligo. Spesso in una coppia si parte divertendosi insieme e finisce dimenticandosi quella parte e condividendo soprattutto bollette e problemi. Come in una squadra stare bene insieme e costruire è fondamentale. Sei, responsabilità. Assumersi la propria parte di responsabilità nella comunicazione è determinante. Responsabilità è molto più di una parola, è un concetto che fa la differenza. E infine, semplicemente, abbracciarsi, baciarsi e riscoprire il piacere di stare bene insieme.